Sì, la chimica è un hobby, sì sì, la chimica è un hobby, la chimica è un hobby, insomma, ora andiamo ad adobinarci lo stomaco, dal cinese, andiamo a sentire l'artista conosciuto come il Tapponto, è qui che entra in gioco l'imbarazzo davanti alla lettera di casa. Allora ragazzi, aspetta, hai partito? Sì, è partito. Sei sicuro? Sì, REC, sei a pochissimo. Allora ragazzi, importante, stasera siamo andati al cinese dei cinesi, quindi non un cinese dove vanno a mangiare i turisti, ma un cinese dove vanno a mangiare i cinesi. Quindi, vito la gente del luogo, di Firenze, vieni qui. Perché sa che la qualità è... La qualità è incredibile, infatti parola del giorno, incredibile. Noi ci siamo già stati, mi possiamo sicurare che la qualità è fantastica. Ci siamo già stati. Siamo felicissimi. Infatti ho ordinato il termonare. Ed è arrivato il risotto del capo. Il miglior risotto di sempre, ragazzi. L'altra volta l'ho mangiato come se non avessi visto mai un risotto e un uovo. Ragazzi, è buono, assaggiatelo a voi. E questo cos'è, Sima? Questo è il miglior piatto di sempre. Burro d'arachidi, arachidi e noodles. No? Piatto proteico. Guardi a dove? Sto gioco. Sto gioco, ma mangi. Questo è, come ho detto, uno spaghetto a Shenzhen. Sì, vai, fammi... Particolamente... Dimmi Shenzhen. Shenzhen. Shenzhen, risotto... Giusto. Spaghetto, scusate. Non so neanche cosa lo ordiniamo. Allora, Simo, abbiamo finito questa esperienza dallo cinese dei cinesi. Come ti senti? È imperativo. È euforico, è euforico. Mi sento pieno. Mi sento pieno. Non so come tu l'abbia fatto. Esatto. Però ragazzi, sì, ok. Sì, vabbè, questa è un mezz'ora per prendere. Però cazzeggia, no? Perché secondo me è un posto incredibile, è consigliato da tutti. E poi, tipo, due ragazzi toscani hanno detto... Toscani? Toscani che sono andati in Cina, si stenevano che è il top, quindi... Un loro amico cinese. Ah, un loro amico cinese. Però... Anche uno di quelli è andato. Anche uno di quelli è andato in Cina. Ragazzi, scherzi a parte, consigliatissimo.